Deliziosa zuppa di zucca autunnale. Una prelibatezza calda e cremosa, arricchita con spezie aromatiche. In una pentola, unire la zucca tagliata a cubetti, cipolla tritata, brodo vegetale, e una spruzzata di pepe nero. Cuocere a fuoco medio, fino a quando la zucca diventa morbida. Frullare gli ingredienti fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Aggiungere pepe di cayenna, noce moscata, e panna da cucina. Mescolare accuratamente per incorporare le spezie e ottenere una consistenza cremosa. Continuare la cottura a fuoco medio per un paio di minuti. Lasciare cuocere la zuppa a fuoco basso per altri 10 minuti, assicurandosi che tutti i sapori si amalgamino. Servire in ciotole individuali e guarnire con foglie di prezzemolo fresco. Preparare dei crostini di pane tostato, spalmati con formaggio cremoso. Disporli su un piatto accanto alla zuppa. Aggiungere una foglia di basilico fresco come tocco finale. Posizionare la zuppa fumante in una scodella a forma di terracotta. Aggiungere una scolverata di prezzemolo fresco sulla superficie. Catturare l'immagine dal punto di vista dell'ospite, per farlo sentire già seduto a tavola pronto per gustare questa deliziosa zuppa autunnale.